Le patologie osservative del polmone sono in costante aumento, da qui il corso sul tema spirometria, diagnosi delle principali patologie respiratorie, organizzato dalla Commissione Giovani Professionisti dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. Relatore il dottor Francesco Madonna dell'Unità di Allergologia del Distrito Sanitario 12 dell'ASL di Caserta. Posso dire che la spirometria è sicuramente l'indagine fondamentale per andare a valutare se a carico dell'apparato respiratorio possiamo trovare una patologia di tipo ostruttivo-restrittivo. Non è un'indagine che da sola ci fa porre diagnosi di asma o BPCO, ma sicuramente ci dà una grossa mano nella valutazione proprio nella diagnostica, ma soprattutto nella valutazione eventualmente della gravità e quindi dell'opportuna terapia da mettere in atto. La situazione qual è attualmente, dottore? Allora, attualmente il problema di fondo è, almeno per quanto riguarda noi che lavoriamo sul territorio nell'ambito di un distretto sanitario capofila, quello di Caserta, è che esiste una grossa richiesta di questo tipo di indagine e di consulenze specialistiche in campo pneumologico-allergologico a fronte di un'offerta che, diciamo, non copre proprio tutte le esigenze. È importante, arrivato a questo punto, stabilire che il medico di medicina generale può mettere in atto sicuramente tutte quelle che sono le iniziative che possono servire a formarli per quanto riguarda almeno una spirometria di base, prima di inviare il paziente dallo specialista ambulatoriale. Quale deve essere il rapporto tra medico di base e medico di medicina generale? Allora, il medico di medicina generale dovrebbe essere formato innanzitutto per fare una spirometria di base, una spirometria semplice che già gli può dare delle grosse indicazioni su un paziente che può essere gestito direttamente da lui oppure se ha bisogno di un supporto specialistico di livello superiore.